Allora, buonasera, buonasera a tutti voi e buonasera e benvenuto a Pordenone, professore. Grazie. Io la ringrazio di essere venuto, di aver affrontato anche queste belle temperature che ci sono anche al nord-est e soprattutto ringrazio anche il direttivo del Circolo della Cultura e delle Arti, il Presidente Alessandro Pazzaglia che mi ha dato il compito di seguire questa presentazione ben conoscendo che questo che affrontiamo questa sera è uno degli argomenti che mi stanno a cuore come quelli che hanno carattere economico ma anche che riguardano il nostro paese. Allora, questo è il suo libro pubblicato da Mondadori, Denominazione d'origine inventata, è un libro che a mio avviso dobbiamo leggere un po' tutti. Dobbiamo leggerlo un po' tutti. Dobbiamo leggere, adesso vi spiego. Quando io ho iniziato a leggere, anzi, quando ho terminato il libro, o forse era ancora dalle prime pagine, la sensazione, un attimo, è quella di smarrimento. L'argomento che viene affrontato, ma con la profondità di uno studio, non con la leggerezza di un divertissement, come si suol dire, è quello che noi siamo abituati a considerare molti prodotti del nostro territorio italiano come dei prodotti che abbiamo solo noi e che non ha nessun altro, come delle eccellenze che al di fuori del nostro territorio non hanno ragione d'essere se non per ragioni di export o di conoscenza. Fin dalle prime pagine cominciamo a capire che non è tutto oro quello che luccica, oppure luccica diversamente da quello che noi abbiamo sempre immaginato. Ed è effettivamente una sensazione che in una terra nella quale abbiamo il prosciutto di San Daniele, la famosa pitina, siamo circondati da prodotti, ma tutte le regioni hanno delle infinità di prodotti che poi sono sotto delle sigle che forse non sappiamo, conosciamo neanche proprio tutte noi, perché siamo abituati a avere a che fare sempre con le stesse, forse le più famose le conosciamo, le altre no. Certe affermazioni del libro a primo acchito e lasciano senza parole. Poi viene anche un attimo di, come dire, ma come, come se dovessimo appunto difendere, mi sono permessa proprio di raccontartela prima, io sono sincera, poi la sensazione è questa di difendere quasi la bandiera italiana, no? Quando noi difendiamo il pomodorino e il prosciutto, ci sembra quasi di difendere quello che è una caratteristica del nostro paese, che c'è il livello altissimo dei prodotti legati appunto all'alimentazione, al cibo. E quindi cominciare a vedere che pian pianino, proprio con una sorta di conversazione, che sembra una conversazione proprio con il lettore, perché è un dialogo che va proprio, è quasi personalizzato, e devo dire la verità che il professore lo dice subito, e non regala niente, non concede niente, e le sue affermazioni mi piacciono, perché ha detto in una parte, dice, vado avanti a colpi di macete. E' vero? Sì, sì. Nel senso che... Ma mi sono scusato per questo, di solito non lo faccio. Sì, no, no, ma c'è sempre un'eleganza, un rispetto di quello che viene detto, ineccepibile, no, questo. Però voglio dire, queste affermazioni sono poi incontrovertibili, nel senso che non è che possiamo dire potrebbe essere così o potrebbe essere diversamente, in realtà si tratta proprio di, tra le altre, noi ricordiamo che il professore è appunto, professore all'Università di Parma, si è occupato di storie delle imprese, ma si è occupato anche di storie dell'alimentazione, quindi abbiamo a che fare una persona che ha delle profonde competenze, tra le altre, autore di una quarantina di monografie, di testi, di diverso argomento, ma molti incentrati su questo. Per cui possiamo dire che queste affermazioni che ci sembrano dirompenti sono dette proprio da una persona che ha tutte le competenze per dirlo. E piano piano si sgretola un mondo, perché come la prima cosa che io ho fatto, è quella che adesso però ho un po' di soggezione a farlo con voi, è quella di andare a cercare da giornalista, perché abbiamo quel difettino lì, di andare a cercare i dati, perché noi abbiamo bisogno di questi dati per aggrapparci alle nostre affermazioni, ai nostri studi. Alcuni non c'è bisogno di andarli a cercare, nel senso che sappiamo tutti che parlare di alimentare, di cibi, di cibi italiani, o parlare di moda, o parlare di design, sappiamo che questa è una caratteristica che ci rappresenta in tutto il mondo. Andiamo in America, Italia è pasta asciutta, oppure Prada, noi lo sappiamo che abbiamo questa cosa che ci è sembrata sempre bellissima in realtà, e che traina anche l'economia, oppure mi dà l'impressione che trainava, perché fino a poco fa, quando il professore mi ha detto che le indicazioni che ho, questi numeri che ho letto, e come tanti, perché insomma erano solo i 24 ore, non sono proprio così da leggere come li avrei letti io. Adesso lo sentiamo, ci confrontiamo. Tra le altre, ho visto che anche la nostra regione, è una regione, tra le altre, virtuosa in questo senso, perché proprio il Friuli Venezia Giulia è una delle regioni al top, diciamo, della classifica per quanto riguarda tutto il settore agroalimentare. E lo sappiamo perché ci sono degli ottimi prodotti, adesso temo perfino a dirlo. Sono buonissimi. Scherzo, stiamo facendo anche un po' di scherzo. Nel libro, ho detto che dovremmo tutti leggerlo, e vi dico la mia impressione. La mia considerazione, al di là di questo momento di spazioamento che ho avuto all'inizio, e che ho confessato allo stesso autore, è che tutti noi forse siamo abituati a recepire quanto ci sembra, ci viene detto, ci viene raccontato, così anche forse con uno senso di fiducia, ma dando anche per scontate molte cose. Forse viviamo in una società dove dobbiamo andare anche più a fondo delle cose, a fidarci agli esperti, e forse, non so se dico una cosa bella, però anche nel campo dell'agroalimentare e di quello che noi portiamo nei nostri piatti, forse un passetto avanti si sta facendo da parte di consapevolezza del consumatore. Quando si raggiungono livelli di questo genere, quando stiamo parlando di produzione di prosciutti, quando stiamo parlando di esportazione di lardo di colonnata e non del paese magari lì vicino, forse noi cittadini perdiamo, diciamo se non siamo proprio esperti, perdiamo un tassello di questo aspetto. E allora vorrei cominciare tutto da qua, nel senso con la classica domanda, ma quando è che ha deciso di, adesso devo scrivere un libro dove racconterò, per esempio, che i pomodori di Pachino, che io credevo fosse una delle cose più belle, vado a Pachino e vado a vedere, io poi mi ricordo, non so se erano i pomodori di Pachino, ma ho portato la mia famiglia a vedere le piantagioni dei pomodorini e non è stata una grande bella esperienza, devo dire, però questo è diciamo l'aspetto da indagine che forse mi caratterizza un po' in certi aspetti. Però uno dice, vado lì e trovo questi pomodori, perché nascono a Pachino, in realtà scopre che questo non è vero, e che i pomodori di Pachino hanno alcune origini israeliane. Com'è cominciata l'idea di questo libro, professore? Tanto grazie, sono molto contento di essere qui, mi fa molto piacere, è la prima volta, devo scusarmi, che vengo a Pordenone e ho scoperto che è una città bellissima, ho fatto un giro in centro, mi è piaciuto molto, e ho visto molti caffè, insomma, mi piace, mi è piaciuta questa esperienza, quindi vi ringrazio di avermi invitato. Quando ho pensato di scrivere questo libro, allora, come hai già detto tu, ci diciamo del tu? Sì, io ho scritto tante cose di storia dell'alimentazione, io di formazione sono un medievista modernista, quindi mi occupo di cose avvenute prima della rivoluzione industriale, così, a spanne, e ho scritto tante cose, e a un certo punto mi sono reso conto che io stesso stavo alimentando quel mito che in realtà non mi convinceva, e del quale non sono assolutamente convinto, e che in questo libro in qualche modo cerco di smontare. Quindi il libro è nato dall'insoddisfazione di quello che io stesso ho scritto nel passato, e quindi dal tentativo di rimettere un po' a posto le cose in fila, le questioni. Questo è un libro di storia, questo è un'altra di quelle questioni intorno a questo libro. Ogni volta che faccio le presentazioni poi si finisce per parlare di agricoltura, che va bene, perché poi sono temi interni al libro, però il mio mestiere è fare lo storico, io di questo mi occupo, e questo faccio in questo libro, cioè ricostruisco la storia dell'alimentazione italiana, di come hanno mangiato gli italiani, e come sono nati questi prodotti tipici, cercando di depurarla da tutti i miti, da tutte le leggende, che molto spesso per motivi commerciali, di marketing, vengono in qualche modo propagandati e diffusi. Ed è un'altra di quelle cose un po' strane, quando tu dici bisogna affidarsi un po' degli esperti, ecco, io vi dico anche un'altra cosa, a parte il capitolo sull'aceto balsamico, e il capitolo sul marsala, che sono frutto di mie ricerche dirette, cioè io mi sono occupato di questi prodotti andando negli archivi a studiarli, a parte questi, tutti gli altri sono capitoli che io ho scritto utilizzando bibliografie, ricerche di altri autori che avevano già fatto questa ricerca. E questa è una cosa un po' strana, cioè il pomodoro di Pacchino non sono il primo che racconta la storia del pomodoro di Pacchino per quella che è, cioè che è un prodotto israeliano che viene poi impiantato in Sicilia e che ogni anno i produttori siciliani devono andare in Israele a comprare le sementi perché è un ibrido e non ricresce. Quindi questa è la storia. Ed è nato nel 1989, quindi non c'è neanche 30 anni. e quindi non sono il primo che lo dice così come non sono il primo che racconta la storia dei prosciutti che racconta nel 1991 Vito Tetti che è un nome che premette a voi non dirà molto ma è uno dei massimi storici dell'alimentazione italiana ha scritto un articolo che si intitola La cucina calabrese è nata in America. Il 1991 scrive questa cosa ed è vero, è vero, dopo se volete ne parliamo della pasta e della pizza che sono nata in America e non in Italia ma al di là di quello quindi l'hanno già scritto questi io semplicemente ho messo in fila le cose e però evidentemente forse anche la diffusione del libro ha fatto sì che questa cosa diventasse un po' più cioè arrivasse a un pubblico un po' più ampio. Ecco partiamo proprio dalla prima affermazione che mi ha particolarmente colpito che quella che la cucina italiana come forse siamo abituati a intenderla noi non esiste. Noi la pensiamo legata alla tradizione non so all'epoca romana partendo da lì in realtà proprio ma è davanti c'è una affermazione e una considerazione che tu fai che salta agli occhi di tutti noi perché in realtà è evidente siamo stati un paese tutto diviso fino a poco tempo fa voglio dire ci siamo unificati al momento dell'unificazione si è creata un'Italia ma forse non ancora una effettiva cucina vero? No io in realtà lì cito D'Azeglio che dice abbiamo fatto l'Italia facciamo gli italiani ed effettivamente poi dal 1861 in realtà poi per quanto riguarda la mia città fino al Friuli dovremmo parlare del 1866 perché poi ci arriviamo dopo Roma nel 70 ma insomma comunque lasciamo stare le questioni regionali ma dicevo dal 1861 oggi bene o male una lingua l'abbiamo tutti interiorizzata l'italiano lo parliamo con qualche accento qua e là ma insomma più o meno di questo stiamo parlando sulle leggi forse non tutto il territorio nazionale ha le stesse diciamo la stessa la stessa sì normativa diciamo che non c'è omogeneità da questo punto di vista poi sono sopravvenute anche riforme politiche sulle regioni tutto quanto quindi lasciamo stare questa cosa per quanto riguarda la cucina il paradosso è che è successo il contrario il paradosso è che nel 1861 gli italiani si dividevano in due categorie quelli che mangiavano la polenta e quelli che non mangiavano la polenta era questo l'alimentazione degli italiani e quindi da queste parti diciamo da sopra il Po forse anche un po' più giù ma insomma comunque dal centro nord l'alimentazione era basata sul mais e sotto era basata un po' su quello che capitava in realtà quindi non c'è però insomma diciamo un po' più sul grano sul frumento in senso moderno del termine questo era le cucine italiane e gli italiani erano dei morti di fame perché anche questo è un'altra cosa quando si dice l'Italia nelle nostre tradizioni inno gastronomiche gli italiani erano dei morti di fame anche perché se non fossero stati dei morti di fame non si capisce per quale motivo 15 milioni di italiani tra 1876 e 1915 si prendono su se ne vanno se ne vanno non perché per fare del turismo se ne vanno perché hanno fame perché non hanno da mangiare qui quindi questa era la situazione e peraltro questa terra come la mia provincia sono terre di grande emigrazione di disperata emigrazione e varrebbe anche la pena di ricordarla questa cosa il 60% degli italiani che vanno in America arrivano da qui non arrivano da Napoli o dalla Sicilia quindi anche questa andrebbe un po' rimessa a posto per quello che è e quindi all'inizio di questa storia la cucina italiana paradossalmente esiste è una cucina disperatamente povera ma esiste poi progressivamente invece ci siamo differenziati più stavamo bene più abbiamo cercato delle storie particolari delle differenziazioni ci siamo inventati le cucine regionali che non hanno nessun senso perché non esistono le regioni nella storia d'Italia quindi non si capisce per quale motivo dovrebbe esistere la cucina regionale forse esistono le province in alcuni casi esistono i comuni ma di sicuro le regioni se c'è una cosa assolutamente innaturale nella storia d'Italia ma questo lo diceva Cattaneo quindi il più grande federalista italiano dice sono le province che fanno le federazioni non le regioni le regioni non sapeva neanche cosa fosse non le concepiva nemmeno e quindi questa è un po' la vicenda quindi la cucina italiana si è differenziata con il crescere del benessere ed è diventata sempre più quello che noi conosciamo oggi come appunto un mosaico di storie di leggende di prodotti tipici di orgogli locali perché poi ognuno difende la sua cacciotta del suo salame come se fosse il simbolo la sua bandiera del suo territorio e anche questa è una storia un po' particolare che secondo me è figlia della crisi industriale ma non so se io non voglio nemmeno abusare della vostra pazienza soprattutto non voglio raccontarvi tutto il libro ma a proposito però parliamo anche di che cosa mangiavano per esempio gli italiani al di là dell'oceano perché è curioso anche quello che tu scrivi nel libro proprio ripercorrendo la storia ma ecco questo è assolutamente un dato acquisito nella storia dell'alimentazione italiana cioè ribadisco non sono il primo che dice questo Massimo Montanari Capatti Vito Tetti cioè i grandi storici dell'alimentazione italiana l'hanno già detto gli italiani diventano mangiamacchieroni in America fino alla grande migrazione verso il Nord America gli italiani certi prodotti non sapevano neanche cosa fossero la pasta la pasta quella che oggi è il simbolo della cucina italiana fino alla prima guerra mondiale il 99% di italiani non sapevano neanche cosa fosse era una cosa quasi esotica quando Umberto I e la famosa regina Margherita vanno a fare la gita a Napoli vanno a vedere dove la leggenda vuole che sia nata la pizza Margherita e non è vero ovviamente non è assolutamente vero perché la pizza è un prodotto che mai e poi mai sarebbe stato dato a una regina perché è un prodotto uno street food è una roba da poveracci quindi non era assolutamente questo il caso la regina Margherita invece lì stupisce i napoletani perché chiede la pasta in brodo che è una bestemmia per i veri mangiatori di maccheroni in quel momento che sono solo i napoletani però nel ricettare i piemontesi di metà ottocento ce n'è uno in particolare che è il cuoco piemontese perfezionato a Parigi che viene pubblicato nel 1848 e fino all'avvento dell'artusi è diciamo la bibbia della cucina italiana in realtà è la traduzione in italiano di un testo francese nel testo francese l'autore originale dice la pasta è un prodotto italiano italiano il traduttore piemontese dice boh lo dice quello là io non ho mai mangiato la pasta però se lo dice il francese facciamo finta che sia un prodotto italiano ma a Torino non sanno a metà ottocento non sanno cosa sia la pasta quindi questa è la situazione e questa è la storia vera dopodiché gli italiani migliorando le loro condizioni di vita e creandoci quel melting pot un po' strano dentro le little Italy nel nord America allora a quel punto si mescolano le usanze e i napoletani in qualche modo impongono questo prodotto come un prodotto simbolo degli italiani ma succede in America non succede in Italia in Italia gli italiani diventeranno mangiamacheroni in America prima e in Italia diciamo tra le due guerre mondiali o meglio ancora dopo la seconda guerra mondiale fino a quel momento la pasta era un prodotto assolutamente esotico lo stesso vale per la pizza la pizza è un prodotto italiano perché ci sono gli italiani in America la pizza è un prodotto mediterraneo si chiama pita pida piada cioè si chiama in tutti i modi è quella roba lì che poi dopo diventa italiana perché sono gli italiani che vanno in America ma se fossero stati i greci sarebbe stato un altro prodotto quello che avrebbe in qualche modo identificato quella cucina e quindi questo insomma un po' quindi il ruolo degli emigrati è anche dal punto di vista identitario oltre che dal punto di vista dei prodotti tra l'altro la prima pizzeria apre a New York e non a Napoli nel 1911 perché a Napoli la pizza è un prodotto per poveri che si mangia per strada ma anche la pasta peraltro si mangia per strada ma insomma comunque la pizza in particolare è un prodotto e quindi non esiste un locale a Napoli dove ci si siede e si taglia la pizza come si fa oggi esiste a New York dopodiché da New York arriva a Napoli quindi questo è un po' sono stato abbastanza iconoclasta dopodiché tu ripercorri appunto dal punto di vista storico tutta la storia che riguarda appunto il nostro questo settore agroalimentare la storia dei prodotti e del cibo che portavamo ci dava l'impressione che avevamo portato da sempre in tavola invece non era non ne abbiamo scoperto che non è proprio così ma dico se avessimo mangiato sempre i salami i prosciutti ma perché andavamo in America stavamo qua i nostri nonni sarebbero rimasti qui però a un certo punto qualcosa è cambiato innanzitutto però volevo chiederti una cosa se volevi raccontarci perché proprio prima hai citato la figura di Artusi tutti noi abbiamo o molti di noi hanno avuto due a casa di Artusi questo volume che è un volume che è proprio fin dalle no le mamme tutti quanti ce l'avevano ci vuoi raccontare la figura e soprattutto quello che ha rappresentato non so quanto voi sappiate della vita di Pellegrino Artusi non voglio annoiarvi però sapete che nasce a Fornimpopoli e poi gran parte della sua attività professionale per un dramma familiare in realtà la svolge a Firenze quindi abbandona la sua terra natale lui è un commerciante non è un cuoco lo dice lui stesso dice io scrivo questo libro perché non so far da mangiare e voglio fare un libro che sia utile a chi come me non sa far da mangiare perché dice fino a questo momento i ricettari sono fatti da professionisti per professionisti e invece lui si rivolge alle massaie di quella borghesia di fine ottocento che sta in qualche modo affermandosi nelle città italiane e quindi questo è un po' l'operazione che lui fa il suo libro inizia con 470 ricette finisce con 710 ricette perché le massaie gli inviano delle ricette cioè diventa un lavoro a rete io dico si inventa internet prima si inventa forse il movimento 5 stelle perché fa un programma per opera degli stessi lettori quindi è davvero un'interazione molto forte quella che lui mette in campo ed è una grandissima operazione editoriale detto questo se vi capita di leggere un libro che adesso è un po' datato probabilmente anche per i nostri gusti forse adesso non è più così adatto però se vi capita di leggerlo lui molto spesso all'inizio delle ricette fa una piccola presentazione dice questo me l'ha mandato la signora Camilla da Vigevano e racconta un po' la storia della ricetta in molti di questi racconti fa delle considerazioni sulla cucina italiana che lui dice di non conoscere lui stesso dice di non conoscere la cucina italiana molto particolari una di queste che è davvero molto sorprendente dice noi italiani non mangiamo tanto bene dovremmo prendere esempio dai tedeschi e dagli inglesi che se ci pensate questo lo scrive l'ultima edizione del 1911 quindi lo scrive poco più di 100 anni fa e fa impressione questa cosa se ci pensate di come in quel momento veniva vista ma dal suo punto di vista di commerciante di uomo economico diciamo così perché lui ha questa considerazione nei confronti della Gran Bretagna e della Germania ha questa considerazione perché sono i paesi più ricchi sono i paesi più potenti dal punto di vista economico quindi questi sono paesi dai quali dobbiamo prendere esempio in tutto anche in quello che mangiano tutte le loro manifestazioni culturali e oltre che economiche e questo è l'elemento forte dopo poi lui è molto polemico con la Francia in realtà perché dice i francesi sono troppo sofisticati e quindi non è adatto al nostro modo di vivere noi siamo più frugali siamo più lui è critico nei confronti della cucina francese che in quel momento ormai da due secoli è la cucina imperante in Europa è quella che ha spazzato via la cucina italiana rinascimentale e quindi c'è probabilmente anche un elemento nazionalistico in questo in questa sua polemica nei confronti dei francesi della cucina francese però c'è questa grande considerazione nei confronti della Germania e della Gran Bretagna che oggi ci fa sorridere perché se se dovessimo pensare a paesi dove in Europa si mangia male noi pensiamo alla Gran Bretagna e alla Germania mentre invece all'inizio del secolo Artusi che è considerato il padre della cucina italiana invece mostrava grande considerazione per quello che mangiavano i tedeschi e gli inglesi che è una cosa un po' un po' paradossale però questo è quello che fa e d'altro canto a lui non interessa niente della cucina italiana lo dice anche quelli che vengono chiamati gastrotoponimi cioè i nomi di ricette che nel nome hanno un'indicazione geografica sono 70 su 700 e poi sono tutti fondamentalmente toscani e romagnoli quindi fanno parte della sua esperienza non è che lui voglia costruire una cucina italiana lui raccoglie delle cose però quel libro diventa in qualche modo il libro fondativo della cucina italiana e anche da una volta sono gli emigrati che lo assumono perché la società Dante Alighieri che aveva il compito di preservare la lingua italiana tra gli emigrati in America adotta l'artusi come quasi come grammatica cioè per insegnare i figli degli emigrati d'italiano si usa l'artusi invece di usare Dante o chissà che cosa quindi questo è un po' quindi imparando la lingua si si dà un'identità culinaria io dico potrebbe anche essere il contrario però chi se ne frega cioè non cambia niente il risultato è quello lì cioè l'artusi diventa soprattutto in America un po' il paradigma gastronomico ma d'altro canto aggiungo e chiudo con la risposta sull'artusi gli italiani in America che partono poveri e che là migliorano decisamente le loro condizioni di vita non tutti ovviamente anzi pochi però insomma quelli che riescono a migliorare si trovano a dover riprodurre o avere le condizioni economiche per riprodurre ricette che loro non conoscono perché c'era una cucina nobile in Italia poi se volete ne parliamo è una cucina francese c'era una cucina nobile in Italia e questi si trovano nelle condizioni di avere adesso i soldi le risorse gli ingredienti per poter fare quelle cose che avevano solo sognato quando erano in Italia e quindi usano l'artusi per costruire queste ricette per inventare molto spesso se le inventano quindi nasce lì questa cucina qui un po' più sofisticata italiana e quindi l'artusi diventa davvero il paradigma la bibbia vorrei dire della cucina italiana fino agli anni 60 e 70 allora io per passare alla fase diciamo successiva io prima volevo leggerti coraggiosamente i miei dati allora l'industria alimentare corre più forte dell'economia italiana e per sette anni di fila è sempre diciamo un segno positivo è molto positivo e i ricavi nel 2016 addirittura del 2,5% crescono del 2,5% e soprattutto vanno a un ritmo doppio di quello che è il PIL di questo paese l'impressione quasi è che la nostra economia se non avesse quasi questo settore forse sarebbe ancora più arretrata prima ne abbiamo parlato e tu mi hai dato una bella lezione dicendo anche i dati dei parametri economici bisogna saperli leggere nella maniera giusta come si ci fosse anche qui ci vuole un professore come te che appassionato perché questo soprattutto si capisce dalla di questi argomenti che li spiega tanto più in una situazione rimbombano questi dati in una situazione nella quale naturalmente in questo periodo stiamo affrontando una crisi in Italia per cui qualsiasi cosa per noi qualsiasi dato di questo genere è sicuramente determinante questo serve a farti passare alla fase successiva cioè raccontarci come ce lo racconti tu siamo passati a un numero incredibile di prodotti che sono legati a un piccolo territorio più delle volte penso al famoso lardo di colonnata che quando appunto ti servono in un piatto questo è famoso tu lo guardi e dici sto mangiando una prelibatezza e più delle volte è anche così tra le altre perché tu quello che dici è che se non fossero stati tra le altre delle eccellenze non sarebbero neanche resistite però questo passaggio io volevo innanzitutto che tu ci aiutassi a comprendere effettivamente questi dati se sono detti espressi poi ho preso una piccola parte ovviamente per non annoiare e poi come si è passati a questa fase delle infinite sigle con le quali noi abbiamo a che fare in questo momento riguardo ai prodotti è una domanda molto complicata no 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 nel senso si può rispondere però ci vuole un po' di tempo allora siccome a me piace partire da lontano dieci giorni fa sono stato ad Asolo dove c'è questa manifestazione molto bella dove gli studenti adottano un libro e un gruppo di studenti ha adottato il mio e mi ha fatto una serie di domande allora a un certo punto ho ripreso il vestito del professore e ho fatto io delle domande a loro e adesso avrei voglia di farle a voi perché ho capito che funziona questa cosa quando tu mi chiedi si no ma adesso la faccio un po' quando tu mi chiedi e mi dici un dato assolutamente vero cioè che l'agroalimentare italiano va più veloce del pilo italiano però a me verrebbe da dire ma qualcuno si ricorda chi era Mario Chu Mario Chu è l'inventore del primo computer del primo calcolatore elettronico del mondo l'Olivetti Elea nel 1958 qualcuno si ricorda chi era Giulio Natta Giulio Natta è il premio Nobel per la chimica ed è quello che ha inventato la plastica ma signora Buddy Ben che si è fatto di Moplen e la Montecatini era la prima industria al mondo nella produzione di materie plastiche se vi capita di leggere un libro bellissimo di Luciano Gallino La scomparsa dell'Italia industriale c'è un capitolo dove parla della storia dell'industria aeronautica italiana l'industria aeronautica italiana fino agli anni 70 era la terza nel mondo adesso non esiste più non c'è più non si produce più niente in Italia qualche componente qualche cosa piccola e tutto questo l'abbiamo perso però e questo si perde perché dici ma sì ma beh succede il mercato l'evoluzione tecnologica però se perdiamo la cacciotta di Pienza è una tragedia nazionale questa è una cosa che a me non va bene io dico questo è un paese che è diventato ricco prospero e che si può permettere i prodotti tipici poi dopo se volete vi spiego anche perché se li può permettere perché ha avuto un grande boom industriale perché in 20 anni questo paese ha fatto quello che altri paesi hanno fatto in 150 anni e allora non è che adesso l'agroalimentare è la locomotiva il problema è tutto il resto che non va più e quindi in proporzione l'agroalimentare sta meglio però se andiamo a vedere in termini di valore della produzione e in termini di occupati anche l'agricoltura continua a valere il 4-5% della nostra economia e già che ci sono io lavoro a Parma ma vivo a Manto a Manto è una provincia iperagricola insomma è una delle delle insomma delle locomotive del settore agroalimentare italiano e allora io sono in costante polemica col presidente locale della Coldiretti il quale la Coldiretti non so se lo fa anche a Pordenone a Manto fa ogni settimana il bollettino e ci informa di come va l'export dei prodotti agroalimentari mantovani ci dice il melone mantovano più 7% verso gli Stati Uniti verso l'Australia il grana padano il parmigiano reggiano perché noi a Manto facciamo tutte e due insomma tutte queste cose qui e ci dice che questo è un grande bene per la nostra economia poi a Natale ci dice non comprate le ciliegie che arrivano dal Cile perché questo ovviamente ha anche un impatto ambientale molto forte perché portare le ciliegie dal Cile all'Italia ha un costo ambientale di energia di inquinamento allora io a un certo punto all'ennesima volta che raccontavo questa storia mi sono arrabbiato e gli ho detto guarda io ho fatto i conti e ti posso garantire che la distanza che c'è tra Santiago del Cile e Mantova è la stessa che c'è da Mantova a Santiago del Cile quindi se inquina la ciliegia portata da là a qui inquina anche il nostro melone portato da qui a là quindi non venirmi a raccontare questa storia allora la nostra agricoltura il nostro agroalimentare campa di export cioè il mercato interno non basta e quindi però se campa di export purtroppo il prezzo da pagare è che deve accampare anche un po' di import perché altrimenti gli altri si arrabbiano non è che gli puoi portare la roba e puoi pretendere che noi le loro restino là e quindi c'è un po' questa cosa qui detto tutto questo la mia sensazione è che appunto questo paese quando era prevalentemente un paese agricolo non è una mia sensazione è un dato di fatto quando era un paese agricolo questo è un paese povero poverissimo dove si mangiava poco e male è diventato un paese ricco dove ci possiamo permettere i prodotti tipici più straordinari nel momento in cui c'è stata l'industria che ha generato uno sviluppo un incremento dei consumi molto forte sono stato attaccato dal presidente del consorzio della lenticchia di Altamura che è un IGP dal dicembre 2017 e mi ha detto e lì dopo perché io non so insomma adesso magari io tendo a fare le battute anche nel libro insomma ho sempre un tono un po' leggero però lui mi ha detto una cosa che mi ha fatto arrabbiare perché mi dice noi stiamo difendendo un prodotto che ha reso ricchi i contadini di Altamura dal 1930 al 1960 allora lì divento cattivo perché lì si offende la memoria di quei disperati che se ne sono andati da lì perché avevano fame non venirmi a dire che negli anni 30 i contadini di Altamura erano ricchi i contadini di Altamura negli anni 30 erano disperatamente poveri e basterebbe leggersi Cristo si è fermato a Eboli per vedere come vivevano quei contadini da quelle parti e peraltro per vedere anche un'altra cosa importantissima se vi ricordate il romanzo che poi non è un romanzo in realtà è una cronaca ci sono questi contadini che sono antifascisti ma non per motivi ideologici ma semplicemente perché il fascismo gli impedisce di andare in America loro vogliono andare via da lì perché lì hanno fame perché il fascismo non mi lascia andare là perché il podestà non mi dà la tessera per andare via tant'è vero che a un certo punto il libro si svolge durante la guerra di Etiopia e c'è gente che dice almeno lasciatemi andare in Etiopia magari lì campo qui muoio là magari campo quindi questo è il paradosso di questa quindi venirmi a dire che la lenticchia di Altamura ha reso ricchi quei contadini è davvero una cosa offensiva che mi rende cattivo adesso che stiamo tutti bene abbiamo la pancia io ho anche troppo abbiamo la pancia piena e grossa allora possiamo anche permetterci la lenticchia io sono contento io auguro al consorzio della lenticchia di Altamura di vendere tonnellate di lenticchie non gli sto augurando il male però non venirmi a raccontare una storia che non c'è adesso ci sono 4-5 produttori che vendono e che hanno rimbreso una vecchia produzione che era sparita perché non era più redditizia nel mercato secondo me c'è spazio per tutti mi auguro che ci sia anche per loro lenticchia ma non venirmi a raccontare che tu stai salvando il mondo tu stai salvando quei 3 produttori che grazie al benessere diffuso possono produrre quel bene che una volta invece l'avrebbero scartato perché era poco redditizio il latte per fare il parmigiano le famose vacche rosse non so se voi avete adesso c'è la moda delle vacche rosse le vacche rosse le hanno uccise i contadini di Reggio Emilia di Parma di Mantua ma perché producevano la metà delle frisone cioè producevano metà latte quindi è chiaro quando tu hai fame il maiale il nostro maiale il white large cresce il doppio cresce il triplo quindi è chiaro che a un certo punto hanno fatto fuori tutte le razze autoctone quando hai fame non è che stai lì a pensare alla biodiversità pensi a come ti riempi la pancia insomma noi per fortuna adesso noi abbiamo la possibilità economica di salvaguardare la biodiversità ma lo dobbiamo al boom economico lo dobbiamo all'industria lo dobbiamo a un'altra storia insomma ecco partendo da un dato che mi ha colpito dal tuo libro che ci sono mille formaggi tipici all'incirca ma proprio se vuoi parliamo di alcuni di questi prodotti prima ne abbiamo parlato possiamo parlare anche del prosciutto di San Daniele lo dico sottovoce ma d'altra parte siamo nella terra che siamo in una città che è vicina a San Daniele e in una regione che è bellissima è bellissima parliamo un attimo per esempio parliamo del prosciutto poi parliamo di qualcuno dei prodotti che proprio appaiono nel tuo libro e che scardinano proprio partendo dalla loro storia dalla storia effettivamente scardinano quello che noi immaginiamo legato non solo alla cacciotta di Pienza immagino o al famoso pane di Altamura ecco ma anche altri famosi molto famosi prende fiato no perché sul prosciutto no allora io ho fatto un capitolo allora faccio una premessa mentre scrivevo il libro l'editor mi diceva dobbiamo farci un nemico in ogni regione perché dobbiamo fare il casino dobbiamo farci un nemico in realtà non ci sono riuscito il Molise l'ho ignorato ma però mi sento alla coscienza posto il Molise non esiste come tutti sanno quindi non potevo in realtà avrei potuto anche tirare fuori un caso sul Molise ma insomma alla fine per pigrizia non l'ho fatta e d'altro canto c'è la Sicilia sovradimensionata perché ho tre prodotti il Marsale il Pornoro di Pacchino e la cioccolato di Modica avevo anche il Pistacchio di Bronte ma non posso più mettere piede nella Sicilia che invece è una regione che io amo e quindi però il Pistacchio di Bronte posso fare la battuta che non c'è nel libro io dico se tutti i Pistacchi di Bronte venissero da Bronte la Sicilia sarebbe grande come l'Australia e quindi è evidente che c'è un problema lì però detto questo detto questo torniamo allora quindi detto che dovevo fare un nemico in ogni regione alla fine ho fatto dei capitoli non per singoli prodotti ma per tipologie di prodotti e quindi uno di questi è quello del prosciutto e allora è sentato fuori un capitolo insomma che fra l'altro è anche il capitolo che mi ha creato più problemi ovviamente non a San Daniele dove io non esercito ma a Parma ovviamente dove io lavoro e insomma qualcuno mi ha mi ha attaccato anche in maniera abbastanza abbastanza violenta ma comunque non fisicamente dal punto di vista dialettico e quindi al di là di quello quello che dico io è che l'allevamento del maiale ha tutta una sua storia una sua diciamo una sua evoluzione però fondamentalmente lo si è sempre fatto un po' dappertutto non con le dimensioni con la disponibilità di oggi ovviamente con la disponibilità di una economia agricola povera che c'era appunto fino a 60-70 anni fa però si è sempre fatta dappertutto quindi anche i prosciutti si sono sempre fatti dappertutto tornando a Cristo si è fermato Reboli non so se ve lo ricordate a un certo punto un personaggio propone a Levi di poter portare i suoi prosciutti lucani quindi se uno si pensa oggi in Basilicata chi è che produce prosciutti beh nel 35 c'era un allevatore che aveva detto tu che abiti a Torino che tua sorella sta a Torino ti do i prosciutti li vende lei quindi dalla Basilicata quindi il prosciutto si faceva dove c'è la canna di maiale un modo per conservarlo per fare in modo che sopravviva c'era appertutto a un certo punto questi prosciutti hanno avuto in alcune aree una capacità di azione collettiva molto forte peraltro San Daniele prima di Parma perché il consorzio di San Daniele è più vecchio di quello di Parma però quello di Parma poi a un certo punto dal punto di vista della promozione del prodotto e del marketing è diventato molto più forte molto più come dire anche esemplificativo per tutti gli altri prosciutti e il risultato finale è che negli anni 70 il prosciutto di Parma praticamente è ubiquitare esiste solo il prosciutto di Parma poi tutti gli altri non hanno denominazione il San Daniele ce l'ha già e faticosamente cerca di identificarsi di darsi una sua identità però mentre a un certo punto diciamo alla fine degli anni 70 Parma e San Daniele riescono a spuntare un 15% in più nel prezzo rispetto alla media di tutti i prosciutti che si continuano a fare dappertutto a un certo punto esplode la moda delle denominazioni e quindi adesso non so se lo sapete i prosciutti DOP e IGP in Italia sono 10 che non hanno assolutamente mercato non esistono cioè esistono il prosciutto di Parma e il prosciutto di San Daniele questi hanno un loro posizionamento ovviamente Parma di più del San Daniele ma complessivamente si spartiscono metà del mercato 45 tra uno e l'altro diciamo più o meno e gli altri hanno una denominazione che fa contenti la sagra locale il prosciutto dei Colli Eugane il prosciutto di Modena il prosciutto di Carpegna che ormai è rimasta solo un'azienda sono tutte denominazioni che appunto vengono create tra gli anni 70 agli anni 80 e soprattutto in questo caso gli anni 80 Jambon de Bois il prosciutto di Cuneo delle denominazioni mai sentite quello di Norcia quello toscano che invece forse era quello che aveva la storia più più strutturata quindi sono tutte denominazioni che non hanno alcuna rilevanza economica e questo è l'elemento e io di questi prosciutti smonto la storia perché se andate a vedere nei consorzi nelle cose c'è la storia di questo prodotto e tutti dicono no in realtà non tutti perché non tutti possono permettersi di dire la stessa cosa però insomma il tema i temi sono due la presenza del bosco voi chiederete perché la presenza del bosco è così importante per la storia di un prosciutto è certo per l'allevamento del maiale perché il maiale nel medioevo fino a diciamo qualche secolo fa era un allevamento brado i maiali venivano lasciati nei boschi quindi c'era il problema è che i boschi ci sono dappertutto in Italia quindi non si capisce per quale motivo a San Daniele o in provincia di Cuneo ci devono essere più boschi della provincia di Brescia o della Liguria anzi mi verrebbe da dire che probabilmente ci sono di più di là che dalle altre parti quindi questa è una spiegazione che non spiega poi c'è l'altra questione del sale allora a Carpegna dicono il nostro prosciutto nasce qui perché c'era il sale di Cervia a Parma dicono c'è il sale di Salso Maggiore e gli ho detto beh e a Cuneo che scusano e a Modena che scusano e nei Colli Euganei che scusano e San Daniele che scusano dove lo tirano fuori sto sale quindi non è che il sale quando c'è è un fattore localizzativo e quando non c'è facciamo finta di niente che se ne frega fischiettiamo e andiamo via no non funziona così la storia lo stesso vale per l'aceto balsamico per altro insomma i documenti vanno presi per quello che sono e quindi questo era un po' il prosciutto ribadisco i prosciutti si facevano dappertutto poi nel corso degli anni 70-80 c'è stata una corsa alla denominazione inventandosi storie inventandosi motivi inventandosi specificità però c'è un problema se volete arrivo alla fine di questa vicenda che è la stessa che riguarda anche il parmigiano reggiano e il grana padano il problema di queste storie è che non si possono tenere insieme due cose che insieme non stanno cioè il prodotto di nicchia e il prodotto di massa o tu fai un prodotto di massa o tu fai un prodotto di nicchia se fai un prodotto di nicchia allora devi essere inflessibile sul disciplinare sulle provenienze e tutto quanto se fai un prodotto di massa allora probabilmente ti nutri di un mito che hai già costruito e poi anche e poi anche certo e poi anche andare sull'evoluzione non so questa è una cosa che devo dire la verità a me comincia anche a fare anche questa un po' rabbia non so quanti di voi abbiano avuto notizia dello scandalo che ha coinvolto che ha travolto il consorzio del prosciutto di Parma e il prosciutto di San Daniele 300.000 cosce sequestrate timbrate dai consorzi timbrate e adesso le stanno scartavetrando perché devono togliere il coso perché usavano una razza in realtà usavano una fecondazione di un maiale danese non previsto dal disciplinare perché questo aveva una capacità di crescita maggiore rispetto a quella originale i giornali non ne parlano è uno scandalo 90 milioni di euro di danno economico una cosa clamorosa se fosse successo un'azienda se fosse successo la Ferrero o la Danone l'avrebbero massacrate una roba del genere invece questi vabbè l'hanno sequestrato facciamo finta di niente andiamo via è una cosa clamorosa dopodiché io ho parlato con dei giornali perché sempre per il fatto che io vengo da Mantua l'80% dei prosciutti si fanno a Mantua ve lo dico così ci togliamo il pensiero e allora ho parlato con un giornalista della Gazzetta di Mantua e ho detto ma cosa aspettate a dare questa notizia e dice ma sai non sappiamo se sono coinvolte aziende mantovane gli ho detto no è matematico che sono coinvolte aziende mantovane non c'è verso è matematico che sono coinvolte aziende mantovane e diciamo non c'è danno per i consumatori beh ci mancherebbe altro cioè non c'è pericolo per la salute beh anche quella nello scandalo metanolo l'abbiamo già avuto meno male speriamo non ce ne siano più però comunque rimane una frode in commercio quello che tu stai dicendo che quel prosciutto è fatto in un modo in realtà lo stai facendo in un altro modo e questo ovviamente per la reputazione è un problema e quindi insomma si sta mettendo la polvere sotto il tappeto però tutto questo io alla fine non condanno i consorzi poi sono stati tutti e due sia quello di Parma che quello di San Daniele sono stati commissariati quindi ovviamente non è una ropetta di poco conto e dicevo io alla fine non esprimo una condanna il problema è quello che vi dicevo a monte cioè non puoi fare un prodotto di nicchia o un prodotto di massa al tempo stesso le due cose insieme non le puoi fare il caso dell'aceto balsamico forse ci darebbe una spiegazione di come si potrebbe fare ecco perché la mia domanda è proprio era questa stiamo parlando di un periodo anche economico difficile per cui anche il fatto di smantellare questi tasselli ci deve anche dare una soluzione ci deve dare anche una soluzione di come eventualmente sarebbe giusto poi rimetterli per una economia invece reale e se secondo te è possibile ti faccio delle domande sì no allora io torno a quello che ho detto all'inizio io faccio lo storico quindi non chiedetemi come andrà a finire perché non lo so io vi dico come è iniziata non vi posso dire come andrà a finire quindi questa è la la base del mio ragionamento detto questo non mi sottrago la domanda devo parlare male del futuro governo del futuribile governo non lo so no diciamola così devo parlare male del contratto di governo del contratto non so se avrà perché non so se l'avete letto io sono un po' masochista l'ho letto e c'è una parte che innanzitutto mi ha convinto del fatto che io non sarò ministro dell'agricoltura anche se Conte dovesse chiamarmi anche se Mattarella dovesse chiamarmi non potrò essere ministro dell'agricoltura c'è una parte sulla sovranità alimentare questa è una bella domanda cioè cosa vuol dire cioè si dice questo governo persegue la sovranità alimentare cioè io la capisco così perché altrimenti non riesco a capire questo è un paese che deve essere autosufficiente dal punto di vista alimentare io la capisco così altrimenti non riesco a capire però questa cosa qui questa cosa no questa cosa qui l'abbiamo già sentita in Italia si chiamava battaglia del grano si chiamava era fatta Mussolini ed è stato un disastro per l'agricoltura è stato un disastro per la nostra economia è un problema grosso che venga perseguito questo dopodiché loro ti dicono nelle pieghe che i nostri prodotti sono migliori e quindi noi dobbiamo difendere questo ma allora questa è un'altra contraddizione se i nostri prodotti sono migliori perché abbiamo paura del mercato cioè perché abbiamo paura degli accordi internazionali se sono migliori dovremmo avere invece avere la speranza che tutti comprino i nostri prodotti ma siamo sempre lì cioè non puoi tenere insieme le due cose allora quando mi dici come venirne fuori secondo me nel mercato c'è spazio per tutti c'è spazio addirittura c'è spazio per chi produce il vino biodinamico io non so se voi sapete cos'è il biodinamico biodinamico è qualcosa che assomiglia molto alla superstizione anzi no è superstizione non c'è niente di scientifico è una roba così inventata non ha nessun senso ma io non ho niente contro cioè se uno produce il vino biodinamico e lo vende e lo vende anche a un prezzo più alto ma buon per lui ma io sono contento non è quello il problema il problema è che non puoi pretendere che quel sistema sia quello che salva l'agricoltura sarà quello che salva due produttori tre produttori e allora tornando a noi le produzioni di qualità devono essere per forza produzione di nicchia quando tu mi chiedi dei mille formaggi io inizio quel capitolo dicendo raccontando la famosa intervista di De Gaulle che dice come si fa a governare un paese che ha 250 formaggi diversi riferendosi alla Francia oggi noi ne abbiamo mille non so cosa penserebbe De Gaulle però in Francia ne hanno ancora 250 e questo è il fatto noi quando De Gaulle all'inizio degli anni 60 rilasciava quell'intervista ne avevamo 30 gli altri 970 ce li siamo inventati negli ultimi anni e quindi questa cosa qui ha un senso se ognuno ha il suo spazio però poi il grosso della nostra produzione deve essere una produzione appunto che va sul mercato che sta sui mercati oppure noi diciamo no noi nella produzione di massa non ci interessa facciamo solo produzione di nicchia il rischio è elevato perché appunto di cacciotta di pienza non si campa però potrebbe essere comunque le due cose devono essere distinte devono stare divise ribadisco il caso che io faccio che è un caso che mi è stato rinfacciato anche questo a Modena ovviamente in questo caso è l'aceto balsamico l'aceto balsamico non so se voi sapete quanti sono gli aceti balsamici? quanti sono? quelli con una sigla ce ne sono tre sono l'aceto balsamico di Modena IGP che è quello che comprate nel supermercato fini ponti tutto quanto e poi ci sono due DOP l'aceto balsamico tradizionale di Modena e l'aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia se vi leggete il libro vi spiego perché ci sono perché è veramente ridicola questa cosa qui però comunque ce ne sono tre di denominazione l'aceto balsamico tradizionale non lo compri non è un prodotto non so se qualcuno di voi l'ha mai assaggiato è un prodotto che arriva a costare 1500 euro al litro cioè una cosa spaventosa cioè boccettine microscopiche non è un prodotto commerciale è un'altra cosa che però è il mito che permette all'altro sapete cos'è l'aceto balsamico che compriamo al supermercato? aceto col caramello punto aceto col caramello che l'aceto costa 0,50 quello arriva a costare 3,4 5,10 euro al litro quindi normalmente 0,50 è il prezzo vero il costo di produzione quindi capite che margini che hanno e perché è così diffuso l'aceto balsamico però il mito di quello là di quello che nessuno compra che nessuno sa e che esiste solo nella cucina di Vissani quella roba lì è quella cosa che permette all'altro di avere quel margine e di avere quindi è un caso dove due prodotti uno di massa e uno di nicchia stiamo parlando 10.000 litri il prodotto il DOP tra Modena e Reggio sono 10.000 litri l'IGP sono 50 anzi mi hanno detto che sono 150 io nel libro dico 50 ma in realtà sono 150 milioni di litri all'anno che vengono prodotti cioè quindi sono due prodotti che non c'entrano niente uno con l'altro non c'è paragone tra le due cose eppure però convivono e secondo me si alimentano l'uno con l'altro se non ci fosse quello là che non conta niente dal punto di vista commerciale che però serve per il mito non ci sarebbe quell'altro che invece crea occupazione ricchezza investimenti e marketing insomma scusa hai risposto io sono bravo a fare domande e non ho granché a dare risposte allora io scusa ma tu con Cracco ci hai mai parlato? no ho parlato con quella che era giudice di Masterchef quest'anno la donna che è friulana fra l'altro perché io le ho detto ci siamo incrociati al salone del libro di Milano e le ho detto del mio libro futuro che è la storia della cucina italiana da Pellegrino Ottusi a Benedetta Parodi e lei si è offesa e diceva io non c'entro niente con questa storia ma infatti Krugman e gli ho detto ma infatti tu non c'entri assolutamente nulla con questa storia tu Cracco Vissani Gualtiero Marchesi Bottura siete tutto un'altra storia non c'entrate niente con la storia della cucina italiana voi siete degli imprenditori ai quali come a tutti gli imprenditori io auguro successo ma che non c'entrano assolutamente nulla con la nostra storia con i nostri prodotti non so se ho disposto anche qui no no anzi perché appunto era importante anche sapere visto che diciamo che ormai la cucina è entrata nella televisione nella vita di tutti noi anche con questi grandi personaggi allora siamo sulla via della conclusione io dico non so se il presidente mi permette di avere ancora un po' di tempo per qualche domanda eventualmente il pubblico perché a me per esempio piacerebbe ricordare che nel libro tu ricordi alcuni realtà prodotti che ci sono dell'Italia che sono proprio nostri con un know-how particolare che ci rappresentano che non sono esattamente quelli che comunemente pensiamo e se li vuoi citare tu magari alcuni e dopo lasciamo il posto qualche domanda perché credo che comunque leggendo questo libro che come ho detto prima fa veramente la differenza da oggi in poi fa anche per me e credo per tutti quelli che l'hanno già letto grazie allora se tu mi chiedi sul riferimento all'ultimo capitolo che si intitola Viva la Nutella dove dico che viva la Nutella dove dico che probabilmente i veri prodotti tipici italiani posto che quelli che noi definiamo prodotti tipici hanno una storia inventata o quantomeno una territorialità arbitraria forse i veri prodotti tipici sono quelli industriali allora faccio una serie di esempi la Nutella è il primo che dico è un prodotto clamorosamente di successo e che identifica una produzione italiana io dico la Nutella è come la Vespa cioè è una di quelle cose a me questa cosa qui è venuta in mente pensando una volta ho visto una presentazione del libro del film Bianca di Nanni Moretti non so se vi ricordate c'è quella scena dove lui ha un vasone enorme di Nutella e ha raccontato che quando l'ha presentato a Cannes un giornalista gli ha chiesto ma anche voi in Italia avete la Nutella perché perché per i francesi è un prodotto francese la Nutella e questo è clamorosamente questo dimostra il successo poi io parlo della Marena Fabri la Marena Fabri è una parola unica ormai non esiste la parola Marena Fabri ormai si usa le cose la Cedrata Tassone cioè i Vermouth sono tutte tipologie di prodotti sono prodotti che in qualche modo identificano la nostra cucina la nostra enogastronomia poi c'è anche il caso del panettone ma vabbè ma dopo non voglio nemmeno farla troppo lunga però insomma ne faccio di casi dove è l'industria agroalimentare che in qualche modo dà una misura e un successo e un'immagine a tutte le nostre produzioni anche a quelle di nicchia che oggi sono così famose così importanti forse il caso più clamoroso è quello del gelato l'Italia è il paese del gelato ma lo è grazie all'industria non grazie agli artigiani io faccio il caso non so se voi conoscete la storia del cornetto Algida il cornetto Algida è una storia epica addirittura il cornetto Algida sono due imprenditori ebrei nel 45 a Roma comprano la macchina per fare le cialde nel 45 a Roma c'è la fame non c'è niente pensare di mettere su una fabbrica di gelati in quel momento è come pensare di costruire un missile per andare su Marte più o meno la stessa cosa e questi invece lo fanno poi in realtà questo prodotto ha una storia molto travagliata fino a quando negli anni 70 conosce un boom e diventa anche questo un simbolo del nostro prodotto ma la vicenda vera è quella dei gelatai artigianali i quali diventano anche questi ambasciatori del gusto italiano grazie ai cremolati della Fabri che è la stessa della Marena che fa i preparati che permette di standardizzare un prodotto ma che è un prodotto industriale italiano che però molti artigiani in giro per il mondo portano come un esempio di made in Italy per eccellenza quindi la grande epopea del gelato italiano è più legata all'industria che non agli artigiani artigiani sono semplicemente esecutori materiali di una storia che invece è una storia industriale poi si lega Fabri si lega molto a Cattabriga e a Carbigiani che sono le due fabbriche che producono le macchine per fare il gelato peraltro sapete che l'Unione Europea ogni tanto le sanziona Carpigiani e Cattabriga perché adesso no più perché si sono fuse ma fino a qualche anno fa le sanzionava perché queste facevano dumping e si dividevano nel mercato siccome c'erano solo loro in Francia ci vai tu in Germania ci vado io e quindi questi non si facevano concorrenza e questo per l'Unione Europea è un disastro però dato che era una posizione dominante se lo potevano permettere quindi questo è ci sono delle domande? grazie professore volevo chiederle qualcosa del culatello di Zibello io lo cito perché è un caso specifico di prosciutto quindi ha questa caratteristica è un prodotto che anche questo assolutamente inventato negli anni 60 forse 70 cioè non ha tutta quella storia secolare che ci racconta ma è semplicemente l'idea molto intelligente peraltro di riuscire a recuperare una nicchia ulteriore dentro il mercato dei prosciutti come ha già detto lei la questione è che la produzione è assolutamente limitatissima quindi fuori da quella produzione lì tutto quello che in giro per il mondo si mangia come culatello di Zibello è una cosa sulla quale io devo sospendere il giudizio non lo so ma guardate lo stesso vale per il lardo di colonnata io non so se qualcuno di voi è mai stato a colonnata colonnata è grande come sta stanza più o meno più o meno è grande come sta stanza non ci stanno i maiali non ci stanno neanche le fosse per mettere quindi io lo dico escluso quel 5% straordinario il restante 95% è un prodotto normale come tanti però quel 5% è buonissimo così come il culatello di Zibello io vengo da Parma ho la possibilità ogni tanto di assaggiare quello reale quello che fanno lì ma è qua ecco questa è un'altra di quelle storie allora dal punto di vista economico è chiaro che è molto più importante quello che va in giro per il mondo che è un prodotto ordinario è chiaro che dal punto di vista economico è quello però ancora una volta se non ci fosse quella mini produzione vera reale che non conta niente dal punto di vista economico perché se la cantano e se la suonano a Parma perché già andare a Modena non c'è non si trova ecco se non ci fosse questo probabilmente non ci sarebbe tutto il resto è un po' come l'aceto balsamico e tutto quanto però è buono sì sì è buono sì sì no ma io basta guardarmi io dalla Nutella in giù le mangio tutte quindi ci sono domande? c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda? qualche prodotto? vorrei che facessi anche alcune considerazioni sull'effetto che la Nutella ha avuto nel territorio d'Alba che è molto importante lo dico nel libro lo dico ah ecco ecco no perché siccome ho visto che c'è anche un capitolo che non ho letto naturalmente sul dolcetto sì c'è una specie di lotta fra il dolcetto e la Nutella perché molti molti contadini stanno togliendo viti e stanno mettendo noccioli perché la produzione è talmente elevata che oltre ad andare in Turchia a prendersi le nocciole in altri posti tende a provocare un cambiamento di coltivazioni dove alcune coltivazioni cedono il posto al nocciolo che d'altra parte è molto più facile da coltivare e anche più facile poi da vendere perché praticamente la produzione è già comprata sulla carta in partenza arriva Ferrero e compra tutto esatto avete capito io sono un liberista so che non va di moda cioè sì va di moda però insomma alla fine è il mercato che decide se un prodotto ha successo io faccio l'esempio io faccio l'esempio del cioccolato di Modica il cioccolato di Modica non so se l'avete messaggiato a me è un prodotto che a me piace ma avete capito che mi piace tutto quindi quella non è una variabile raccontano una storia senza senso gli aztechi conquistadori raccontano una storia senza senso in realtà è un prodotto nato negli anni 90 ma se quel prodotto lì non avesse avuto successo se ci fossero stati consumatori che lo andavano a comprare tu potevi anche raccontare la storia degli aztechi ma non avresti avuto successo quindi anche lì il dolcetto ce ne sono 17 di doc e docci di dolcetti se il dolcetto vale ormai lo compri 2 euro la bottiglia è evidente che a un certo punto il contadino tira via la vigna e se arriva Ferredo che gli dà 5 centesimi in più mette su un nocciolo e poi magari succederà che poi si restringerà la produzione e per effetto dell'economia magari appunto la domanda è stabile e quindi magari il prezzo cresce non lo so, questo per dire però io alla fine la vedo così, la vedo molto semplice mentre invece, altra cosa importante questo mi è successo quando mi ha intervistato Lice Granello di Repubblica mi dice ma i prodotti tipici hanno un impatto sull'economia locale molto forte può essere però la Ferrero ad Alba non è che sia un effetto da poco la Fabri a Bologna, la Tassone a Salò stiamo parlando di fabbriche che fanno la differenza e mi dice sempre Lice Granello però la Nutella fa male come fa male? io spero che le autorità sanitarie quando mi mettono un prodotto su uno scaffale di un supermercato non mi faccia male magari non mi fa bene ma allora in questo caso avrei bisogno di andare in farmacia se ho bisogno di qualcosa che faccia bene secondo me ma comunque non mi deve far male e lei mi dice ma provo a mangiare un chilo di Nutella e gli ho detto sì ma provo a mangiare un chilo di lardo di colonnata cioè non è che le colonnarie sono contente cioè la cosa vale per tutti per quale motivo eppure si può dire della Nutella tutto il male possibile l'olio di palma ma se invece si tocca appunto la cacciotta di Pienza o il prosciutto allora è l'esa maestà allora lì si fa e secondo me i lavoratori della Ferrero hanno gli stessi diritti dei lavoratori del Consorzio del Prosciutto di Parma o di San Daniele per come la vedo io insomma i posti di lavoro sono gli uni e gli altri no c'è un mio amico romano perché io nel libro parlo anche della storia degli spaghetti alla carbonara e allora mi ha mandato una foto mi ha detto li mangio ma da quando ho letto il tuo libro non così volentieri come prima mi dispiace perché in realtà sono buoni io sono a me piace un terreno sono disposto a uccidere per un piatto di... ma no va benissimo li hanno inventati gli americani è un prodotto che è nato nel 45 durante l'occupazione un applauso al professore grazie a voi professore Alberti le omaggiamo con il gagliardetto del circolo Lea Locandina del circolo della cultura grazie grazie di essere venuto qui a Pordenone grazie a voi speriamo di rivederti presto nella nostra città prossimo libro che parlerai del frigo del frigo no non hai mangiato il frigo no però no sì sì no per sé cosa avevo capito del frigo perché l'altra delle mie paranoie è il ghiaccio io voglio fare la storia del ghiaccio ti ho letto nel pensiero allora eh fatte grazie a tutti grazie a tutti